ma per tutti ragazzi oggi siamo in rosa con un cratto oggi non alla scuola non scherzo quindi adesso non c'è di parlare con loro e provo delle cose ora mi svitò dal patio ora mi sottotitoli a qui l'occo e non c'è meglio la line qui e qui 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 a a a a a a a a a madonna m 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 ah ecco come si parla raga mi chiedeci di sforzare un attimo aspetta oh ho sbagliato ora basta la sigla a lui da desto non puoi stare non puoi stare non puoi stare sei già con questo o 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 io vado un attimo allo sciogitore ma che ca... ma... perchè qua fanno andando a fuoco? o 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